ciao ragazze allora nuovo video spacchettamento video haul di look fantastic allora premetto una cosa l'ho già scartato perché ero curiosa non sapevo cosa ci fosse dentro ma non l'ho aperto del tutto ho fatto la brava stavolta non l'ho aperto del tutto ma adesso mi assicuro che vi sia tutto dentro vabbè potevo farlo prima volevo vedere insieme a voi cosa vi verrà dentro e niente adesso apriamo la scatola insieme senza mettere pausa e nel niente quindi senza stoppare il video e vi faccio vedere cosa c'è dentro allora la scatola l'avete vista prima nell'anteprima nel resort e questa è la scatola come potete vedere e niente ora la apriamo ecco qua questa è la scatola vedete già qua c'è il libricino aspetta che voglio qua perché sennò mi scivola e si rompe qualcosa non vorrei mai fosse in vetro quello che c'è dentro quindi evito di evito di di fare disastri questo è il come dire il dei client vedete il volantino il libricino la brochure come la si voglia chiamare brochure ecco qua vabbè presumo che abbiate già visto migliaia di video di look fantastic ecco qua vedete e niente poi ci sono tutti i suoi social ecco qua e ce ne ha tre ancora come fare un look come fare le sopracciglia per esempio e basta un altro altro non c'è questi sono tutti i suoi social da facebook a twitter a instagram cos'è si instagram lo vedete già e niente adesso qua c'è da togliere questo che lo togliamo insieme guardate un attimo guardate un attimo guardate un attimo guardate un attimo guardate però lo devo fare per forza quindi lì non so oh madonna mia che roba che c'è no vabbè ragazze non potete capire la bellezza che c'è dentro qui c'è questa roba che c'è no vabbè hm tanta bella robetta c'è voi vedete ma scusa non ce la puoi vedere si ecco qua vedete non so ancora cosa ci sia ma vedo che sono tutte cose abbastanza belle direi molto molto belle allora questo è un body lotion una lozione corpo si e lo tiro fuori ok poi qua c'è un un gel un anti aging purità per purificare non so vabbè adesso non mi ricordo della filorga vedete e ve lo tiro fuori questi della non so come si legge quindi ve lo metto qua ecco qua allora intanto ho fatto tutto qua non ho idea di cosa cavolo sia questo boh ah una palla da bagno molto bene questa la devo fare per i piedi ovvero una bomba da bagno scusatemi ovviamente vedete e questa la dovrò fare ovviamente nel bidet perchè non c'è altra soluzione in che senso vedrete non ho il bidet nella doccia non lo posso fare perchè non ho la vasca appunto la doccia quindi quando farò come si dice il pediluvio utilizzerò questa bomba non ha senso no mi piace la farò lo stesso poi andiamo avanti cosa tutto c'è qui aspetta un attimo qui c'è un pezzo occhi benissimo anche questi cominciare a utilizzarli prima o poi sempre se non mi irritano l'occhio spero di no ecco qua vedete non so se si vedono ok contro luce ecco qua cos'altro vi è una maschera rimuovi trucco sì esatto dovrebbe essere quella esatto una sorta di remover non so come cavolo chiamarlo sì vabbè per struccare il viso vedete sì da bellissimo e questo cos'è boh non lo so non ho capito mica vedete cos'è aspettate che ve lo trovo dal Prunibol allora lo leggo un attimo un secondino non mi dite che non so cos'è perchè sto dicendo io da come cos'è ma ah è un mini blush wow vabbè no è carinissimo no vabbè è troppo bello aspettate ve lo apro se mi riesci di capire come aprirlo per non fare ulteriori danni nel frattempo un attimo solo lo sto togliendo dalla sua scatola dalla sua scatolina che cosa cos'è ah ho capito le soluzioni che non servono tanto so come si usa un blush ecco vedete e questa è la sua scatolina che non ci bisogna che ve lo faccio vedere ma ecco qua già non lo sguocio perchè tanto ve lo sguocio appena faccio un trucco ecco qua vedete bellissimo adoro troppo bello mi dispiace quasi quasi su c'era bello ma ci tenevo proprio a vedere bello 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 si bello vedete un bel colorino si veramente e niente adesso questo lo ripongo davvero ovvero lo rimetto qua dentro perchè voglio evitare che poi si perchè io no sapete che sono una che mi piace vedere anche le scatoline le cose varie ovviamente la scatola dove dove avevo tutto qua dentro la voto ma questa no me la tengo perchè non si sa mai che con il periodo storico in cui siamo voglio evitare cose varie voglio evitare cose varie è tutto a posto vedete si ok allora ragazzi questo era tutto quello che ho spacchettato per oggi nulla di tutto ciò solo tanto cose belle e io rimetto tutto in dovera perchè poi ovviamente strada facendo faremo un test su strada e tutte queste belle cose che mi sono arrivate adesso dove ho messo l'altro? eccolo qui di filo e nulla questo era tutto quello che avete intravisto nel video anzi è stravisto sul video in altri video che non era il mio canale ma altri ovvero lo avete visto anche nel mio e a breve arriva altri pacchi un altro e basta perchè non ho bisogno di creare di acquisti però vabbè questo mi basta un avanzo bene questa era la brochure la brochure di look fantastic potete leggerlo anche voi niente questa scatola o intenzione ovviamente vi siete nella mano per mettere altri campioncini e non ci si becca a un prossimo video mettete un bel like se vi è piaciuto il video e fatemi sapere con un commento e ovviamente perchè se vi fa piacere iscrivervi e attivate la campanella per ricevere i prossimi appuntamenti make up posi asmr quel che mi spivizzerò la testa di fare ciao a presto un bacio e vi raccomando seguitemi su instagram come youtube melania-8 vi metterò casomai il link più che altro il nickname dell'infobox per non stare sempre qui a scrivere l'annotazione o se mai all'inizio vi metterò youtuber melania-8 come nickname dal mio instagram profilo ciao un bacio